PEGI 18 Diriggevo la produzione del Nova 6 prima che gli americani ci trovassero. Allora ho incontrato Russell Adler. Attacco in arrivo! Adler ha alcuni tasselli del basso. Ma non sai di essere uno di essi. Ti ha atteso una trappola, Adler. Lo so. Porca puttana. Si è rimesso a produrre il Nova 6. Uccidete gli altri. Adler è mio. Ci vediamo all'inferno. Missione di soccorso fallita. Servono rinforzi immediati. Stiamo arrivando. Contatto visivo. Dona Contessa. All'attacco. Ci stavano aspettando. Se muociamo adesso, Adler è fregato. Via, via, via. Muoversi, muoversi. Stitch, i ratti sono qui. Adler è al sicuro e diretto a Verdansk. Bene. Questo è solo l'inizio. La missione è stata un disastro. Adler era lì. Quei bastardi l'hanno ridotto davvero male. Il Nova 6 era una montatura. Abbiamo seguito ogni pista. Le informazioni portano a Verdansk. rinforzate il perimetro. Abbiamo del lavoro da fare. Sapete già cosa fare. Niente testimoni. Niente sopravvissime. Abbiamo le informazioni. Possiamo procedere. È ora di fare dei seri danni. Il nostro operato darà finalmente via all'ascesa della grande Luzia. A partire da qui.